Sono 59 le borse di studio del valore di 500 euro l'una che questa mattina sono state assegnate agli studenti iscritti agli istituti tecnici della regione Abruzzo per l'anno scolastico 2024-2025, nell'ambito del progetto L'intelligenza naturale del mattone, voluto da ANCE Abruzzo, l'Associazione Nazionale dei Costruttori ed Ili, e il Consorzio ISEA, Innovazione, Sviluppo, Edilizia e Ambiente, con l'obiettivo di attrarre e formare giovani geometri nel settore dell'edilizia. Antonio Dintino, Presidente del Consorzio ISEA, primo anno di questo progetto L'intelligenza naturale del mattone per attrarre giovani nel settore dell'edilizia, allora come è andato questo inizio? È andato molto bene, non ce l'aspettavamo neanche noi, quando ho voluto questo progetto, coadiuvato dai miei colleghi di ANCE Termo, ANCE L'Aquile e naturalmente l'ANCE Abruzzo, non ci aspettavamo questo successo. Purtroppo noi abbiamo 12 istituti tecnici in Abruzzo con delle iscrizioni sempre meno 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 per tantissimi anni, tant'è vero che i 12 istituti faticavano anche a formare le prime classi. Con questo nostro progetto il trend si è per la prima volta dopo decenni di negatività con un più 34%, quindi ne andiamo fieri perché riteniamo che dobbiamo pensare anche noi come la politica a far sì che il futuro possa essere dei giovani e nel nostro settore oggi servono figure tecniche e quindi speriamo che questi ragazzi si appassionino a questa scuola e possono essere i futuri giovani imprenditori iniziando come geometri nei nostri cantieri. Enrico Ricci, presidente del ANCE Abruzzo. Quando si parla di intelligenza naturale del mattone, cosa si intende? Come è cambiata l'edilizia negli anni? L'edilizia, anche se è rimasta un po' indietro rispetto all'industria, è ancora tradizionale. Comunque negli anni ha subito dei cambiamenti dovuti anche alle nuove tecnologie, anche al nuovo modo di pensare e di abitare e quindi c'è un adeguamento su questi temi. C'è anche una tendenza sulla città che sia più attenta a un'interazione tra cittadini e che è costruito, quindi si ribalta anche la concezione di separare le funzioni di zonizzazione, e quindi cercare di reintegrare quella che era la città di una volta, cioè la città dei 15 minuti, la città dove c'è una prossimità e le persone possono dialogare, possono vivere tranquillamente. Il conferimento delle borse di studio è avvenuto al Teatro Sant'Andrea di Pescara, con una cerimonia condotta dal regista Walter Nanni e presenziata dai rappresentanti degli enti promotori e patrocinanti del progetto. A chiudere la mattinata con i giovani degli istituti superiori tecnici è stato l'intervento del professor Vincenzo Schettini. Massimiliano Nardocci, direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo. È stato un grosso successo e noi vogliamo a questo punto cercare di estendere questa modalità, questo rapporto che abbiamo col mondo del lavoro anche in altri settori. In Abruzzo gli istituti tecnici e professionali offrono grandi prospettive, soprattutto a livello lavorativo, ma non sono troppo conosciuti dalle famiglie, quindi dobbiamo lavorare molto affinché le famiglie conoscano le opportunità che questi istituti possono dare.